Avevo fatto precedentemente un video utilizzando questa fontana che era vuota, di fatto il titolo è La Fontana senza puntini puntini acqua. Oggi arrivo e trovo la fontana viva, piena di acqua pulita, limpida, con le sue fontanelle che riflettendo la luce del sole esprimono vita. Ecco, una fontana viva, carica di vita che ho usato come esempio per la vita dell'uomo, dell'essere umano, quando è carico di vita, di amore, di sentimenti, di anima, quando è un essere umano, un essere in un corpo, come l'acqua raccolta in questa fontana, che a differenza del video precedentemente pubblicato, la fontana senza, in questo caso è la fontana con l'acqua, l'acqua della vita, l'acqua dell'amore, dei sentimenti, del vivere e dell'esistere. Grazie cielo per questo esempio, grazie sole, perché col tuo forte brillare guidi chi vuole, ogni essere umano, verso la strada della vita, dell'esistere, dalla materia, all'esistere nell'eternità, da una fontana piena di acqua viva, orgogliosa, come precedentemente ho fatto vedere, non è più quella fontana vuota, secca, priva di vita, simile alla vita di ogni persona. Grazie Dio per l'insegnamento che ci dai, rendici capaci di vederlo, capirlo e assimilarlo in noi.